Buongiorno, mi puoi dire come posso ricaricare una PostPay? Ok, la ricarica è semplicissima, per quanto riguarda i vantaggi, innanzitutto non sei tenuta ad avere un conto corrente, che magari è un giovane, sai avere un conto, spesso è una sorta di impaccio, però quindi vuoi avere contante libero, girare tranquillamente, viaggiare, pagare su internet e quant'altro. Detto ciò, la possiamo appunto ricaricare, prendere questa operazione e poi accedere ad una serie di vantaggi, per esempio, mi piace la musica, il cinema, C'è un sito, tra l'altro un'iniziativa nuovissima, che si chiama PostPayFan, si tratta di accedere nel sito di PostPay.it, sezione PostPayFan, quindi semplicissimo, e tramite questo ingresso al sito c'è la possibilità di ottenere numerosi sconti, quali per esempio scaricare musica, ottenere biglietti per il cinema in omaggio, per i concerti, tutto assolutamente in maniera gratuita, ovvero basta essere controllati di PostPay e automaticamente questi sconti verranno generati sul sito una volta che si accede. Tra l'altro una notizia proprio fresca fresca, dal 1 gennaio di quest'anno c'è stata un'innovazione che rende la PostPay ancora più sicura, si chiama semplicemente sicurezza web e in cosa consiste? Nel momento in cui si va ad operare nei siti di PostPay, post.it, quindi magari di carica PostPay, di carica cellulare e quant'altro, viene inviato un codice al proprio numero di cellulare, si inserisce il codice e nel momento in cui si effettua l'operazione avviene in assoluta tranquillità. Lo era anche prima, però attraverso questa sicurezza web viene in maniera ancora più incisiva.